Siamo tornando alla normalità, stiamo tornando a quelli che sono i nostri valori, a quello che vogliamo far vedere in questo campionato. La squadra è forte, non ci siamo mai nascosti e non mi sono mai nascosto, specie ai microfoni. Credo nella squadra, stiamo facendo delle buone cose, possiamo migliorare ancora tanto. Oggi il risultato ci premia, abbiamo fatto una buonissima partita, siamo un po' calati sul gol loro. Appena preso il gol loro ci siamo impauriti, quello che poi mi sono tra virgolette arrabbiato con i ragazzi. Se non eravamo in totale controllo della gara, perché al primo tiro preso abbiamo preso gol.